Sì, bravissima. Facciamo un giro così. Lucio Michieli, commettatore da Lucchi, assolutamente singola. Cosa sta? Torrida Montesudano. Sì. Posso chiederti il nome che vorrei fare una roba una volta con Skype su Professione di... Antonio Giozzo. Giozzo? Ma non sono speaker, è la prima volta che non sono speaker, va benissimo. Solo fidanzata o diverso? Collega. 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 No, Serena, c'è rabbia, no? No, no. Ma non gli è di arresto, ma per niente. Che collega? Beh, una volta mi piacerebbe perché vedo come sono combinato dopo, insomma. Quindi fidanzata. Complimenti. Te l'hai invidio molto, eh. E' le chiudono. resultado esatto. E' questa esperienza. Tutto... escolta? Trezzка! Sai, guarda che hai detto, a tante io. Ma questa... che vede molto... la parte sia senza... ... Sui due riguole? Floristecca, grandissima l'orice nooo ma caro Luca bello il tempo è bello perché è variale dunque qua, qua no vado sopra la produzione Rai è stata la grande giornata del calcio 5 femminile e noi c'eravamo un grande piacere enorme anzi enorme 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 Floristecca, grandissima, grandissima storia qua fa un caldo cane rispetto a due settimane fa c'è un caldo cane alto qua alto qua ah ecco qua il veo flimmi ah ecco qua il veo flimmi cosa siete ragazzi posso chiederlo? staff di falconara dirigenti? cosa siete dirigenti? io faccio il video analista staff di falconara, allenatore della difesa di falconara allenatore dei portieri del falconara preparatore atletico del falconara incredibile neanche la juveson fate che posso? grazie